Le correnti in quota si dispongono da nord-ovest al suolo, la pressione tende ad aumentare, tempo generalmente stabile sul centro-nord con temperature inferiori alle medie della stagione. In Toscana, martedì 31 agosto, cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di rovescio brevi temporali, venti deboli occidentali, mari poco mossi, temperature stazionarie su valori tipici del periodo. Sul territorio provinciale da sereno a nuvoloso con ampie schiarite però dal pomeriggio, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 16, massima 26 gradi, in Valle del Serchio e zone montane minima 13, massima 26, a Biareggio sul litorale minima 17, massima 25 gradi. Mercoledì sereno poco nuvoloso con aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio, temperature massime in aumento.